Il primo dibattito presidenziale negli Stati Uniti tra Biden e Trump, il primo con una voce debole e roga provocata da un rapprendure con frasi confuse e balbuzie, non è stato all'altezza dell'evento, tant'è che molti media americani e soprattutto il Partito Democratico temono una situazione non facile e che anzi potrebbe ritirarsi in anticipo. Battagliero come al solito Donald Trump che non ha risparmiato evidentemente anche accuse e polemiche nei confronti del suo amversario. Una formula scelta per il primo dibattito presidenziale televisivo promosa che non ha dato luogo a risse, che comunque ci sono state i due conduttori decisamente nell'ombra e non hanno messo pepe a un dibattito presidenziale da cui l'America ne esce a gambe rotte.